Casa Ciavarro. Cosa bolle in pentola? Clizia ha in braccio un cagnolino. Sembrerebbe un volpino, correggetemi se sbaglio. Forse un incrocio? Si trova in un negozio di borse a Roma. Tornata a casa inizia a chiedere a Paolo Ciavarro di acquistare un cagnolino piccolo come un peluche. Paolo che sta cucinando non le risponde. Clizia però non molla e dice ai fans che ci proverà ancora perché sarebbe bello averne uno. I bimbi di sottofondo impazzano con le urla che lo vogliono. Paolo fa una faccia che dice tutto. Alla fine dovrà per forza di cose dire di sì. I bimbi sarebbero felicissimi. Poi sappiamo come va a finire che a portarlo fuori per fare il bisogno mentre piove e fa freddo sarà lo stesso Paolo. Voi che le pensate bene far crescere i bambini con un animaletto in casa? Oppure è meglio non prenderli perché poi i bimbi crescono e non gli importa più? Scrivilo nei commenti. Canale Fabio Pecce